e ciao a tutti amici io sono franco versa oggi vi farò vedere in fusion alcune programmazioni che abbiamo già pronte ma noi le andremo a studiare per capire come sono state realizzate e imparare così l'utilizzo dei nodi che poi ci torneranno utili in altre programmazioni e quindi clicchiamo tasto destro nel media pool new fusion composition creiamo la nostra clip la trasciniamo in timeline e andiamo in fusion in fusion se aprite gli effetti e andate sui template abbiamo i template di fusion clicchiamo qua andiamo su motion graphics qui abbiamo diversi esempi molto simpatici già pronti ecco questa è la nostra media out che ora vado un po ingrandire vado a trascinare ad esempio radar 2 perché oggi andiamo a studiare vedere come realizzare questa animazione e così potete anche scoprire queste animazioni e provare ad analizzarle ecco qua la programmazione avete visto è sufficiente trascinare nel node editor questa è tutta la programmazione non sono tantissimi nodi sono sviluppati come vedete un ramo principale qui con diversi rami io li chiamo così questa direzione proviamo a collegare l'ultimo all'uscita e buttiamo l'uscita sul viewer e vediamo che è una specie di radar proviamo a premere play e guardate che simpatico c'è il tracciato diciamo del radar che va a leggere questi puntini che stanno avanzando ce ne sono di rossi e come vedete anche quando passa il fascio del radar vengono ingranditi cambiano bene innanzitutto proviamo a capire come creare questa ragnatela chiamiamo così del dello schermo del radar come si può fare sganciamo questo e incominciamo la nostra analisi e adesso oggi prenderemo in considerazione una prima parte poi in altri tutorial vedremo l'altra perché se anche visto così non ha tanti nodi può sembrare semplice in realtà alcuni passaggi possono essere più complessi di altri siccome voglio farvi vedere questa programmazione e poi salteremo a quella che costruiremo qui a fianco andiamo anche utilizzare una funzione che è dei bookmark cosa sono possiamo andare in un'area e cliccando qua possiamo aggiungere con contro di un bookmark possiamo rinominarlo ad esempio programmazione 1 aggiungi e poi qua adesso prenderemo in esame ad esempio il media out clicchiamo qua facciamo aggiungi bookmark e scriviamo programmazione 2 dopo andremo a modificarlo quando avremo i primi nodi quindi adesso cliccando qua come vedete troviamo programmazione 1 e programmazione 2 praticamente con ctrl shift 1 se lo premiamo saltiamo in quell'area dello schermo e con ctrl shift 2 saltiamo all'altra quindi anche se ad esempio abbiamo molto zoomato ci memorizziamo un'area zoomata possiamo vedere che adesso era il terzo elemento che ho zoomato come vedete con ctrl shift 3 torno lì ma è zoomato quindi 2 cielo largo e 3 zoomato perché non solo si memorizza la posizione nei bookmark ma anche lo zoom e questo è comodissimo per spostarsi in aree senza dover ogni volta navigare così e così abbiamo visto anche una nuova funzione di fusion partiamo a guardare la programmazione da questo nodo qua quindi premiamo sul background 9 e premiamo 1 e notiamo che è un bel quadrato celeste e che le sue dimensioni sono mille per mille beh lo sappiamo ricostruire quindi spostiamoci qua adesso ce lo metteremo quello come bookmark quindi prendiamo un background lo trasciniamo in timeline visualizziamolo di qua così c'è molto più semplice farlo uguale premiamo 2 che viene visualizzato qua e ci rendiamo conto che noi abbiamo invece 1920 per 1080 quindi andiamo su image sganciamo l'auto resolution e possiamo portarla alla stessa risoluzione dell'altro nodo 1000 per 1000 e così avremo un quadrato ora non si vede perché è nero andiamo nell'area colori e molto semplicemente copiamo proprio di brutto la programmazione prendiamo la pipetta e la trasportiamo sul celeste come vedete possiamo leggere anche i valori 0 0,99 0,96 abbiamo ricostruito lo stesso nodo l'unica cosa che questo come vediamo è float 16 e questo è float 32 quello è sempre un valore della profondità colore cliccando qua possiamo portarlo a float 16 anche questo eccolo qua andiamo ora a analizzare perché abbiamo fatto un quadrato perché il cerchio che faremo dello schermo del radar è quadrato allora contro shift 1 andiamo a vedere dove è collegato questo background scende e va su un bright and contrast se vedete la parte scritta solo un pezzo se state un pochino sopra avrete il nome per intero e anche vari settaggi li potete notare anche sulla parte sinistra in basso abbiamo il nome del nodo frame size mille per mille pixel aspect e la profondità del float eccetera quindi prendiamo anche noi un bright and contrast e lo troviamo qui e lo andiamo a posizionare qua andiamo a inserire il nostro nodo cosa farà il risposto con shift andiamo a vedere come è posizionato vediamo che ha abbassato solo il gain a 0.39 questo se andiamo a vedere questo e poi andiamo a vedere questo come vedete è molto più scuro questo è come bisogna analizzare appunto una programmazione quindi torniamo di là adesso possiamo metterci questo come bookmark quindi lo vado ad aggiungere e scrivo background 2 e sarà come vedete il shift 4 ok quindi ctrl shift 1 torno lì ctrl shift 4 mi ritorno a questo bookmark quindi andiamo a abbassare anche qua il gain e scriviamo 0.39 eccolo qua andiamo a vedere cosa hanno combinato la parte importante qui è questa questa di tutte queste maschere qui in pratica vediamo questa maschera questa è una riga e questa è un'altra riga perché ora ve lo spiego io senza fare su e giù ritorniamo semplicemente qui andiamo a prendere un rettangolo lo posizioniamo qua visualizziamolo vi faccio notare una cosa questo brightness derivato dal background ha anch'esso una risoluzione di 1000x1000 perché ovviamente è questo che ora ha detta la risoluzione se noi trasciniamo una maschera da qui e guardiamo vediamo che sarà 1920x1080 come vedete e ha tenuto la risoluzione del nodo di default rispetto alla nostra timeline se noi selezioniamo il brand and contrast e ora clicchiamo sulla maschera questa che viene agganciata invece ha già in automatico 1000x1000 quindi vedete che è importante se vogliamo lavorare con la stessa definizione cliccare sul nodo e agganciare la maschera o cercarla con shift bar spaziatrice già che venga agganciata al nodo in questa maniera in automatico la sua risoluzione sarà corretta quindi ora andiamo a fare come prima la nostra striscia che sia orizzontale o verticale non ha importanza all'inizio anche qua andiamo a aggiungere un'altra maschera uguale attenzione che succede se io clicco sopra faccio ctrl c clicco sul grigio faccio ctrl v se guardo questa è 1920x1080 è ritornata come timeline guardate se invece faccio ctrl c e senza togliere la selezione ctrl v vedete è venuta agganciata e automaticamente la risoluzione è corretta quindi sappiate questi questi piccoli trucchi quindi prendo questo rettangolo e sull'angolo lo giro di 90 gradi ok quindi l'abbiamo in verticale qui l'abbiamo in orizzontale e abbiamo fatto una x perché queste due maschere si sono sommate perché su questa seconda sul paint mode c'è merge quindi otteniamo la somma ora abbiamo una x e qua verrà poi colorata poi qua vediamo cosa succede in pratica aggiungiamo un altro bright and contrast qui quindi clicchiamo sul background e bright and contrast e sul secondo brightness attenzione a reverse forward perché andiamo a abbassare il gain e dobbiamo ottenere come vedete solo la nostra maschera la croce che entra dentro per mascherare con il colore ok cosa andiamo a fare questo la andiamo a passare su un transform andiamo a visualizzare sul 2 il transform vediamo cosa succede se lo rimpiccioliamo rimpiccioliremo solo così il nostro la nostra croce attenzione come vedete abbiamo nero perché non abbiamo abbassato l'alfa quindi clicchiamo anche l'alfa e automaticamente avremo una croce trasparente come vedete dicevo su transform se noi alziamo abbassiamo abbiamo una croce che si ingrandisce o rimpicciolisce noi vogliamo ottenere invece una griglia per far questo su age canvas canvas è il foglio diciamo che abbiamo abbiamo varie possibilità con wrap abbiamo come vedete la ripetizione del nostro segno che ripetendosi creerà altre croci altre croci che unendosi assieme come vedete una croce qua una croce qua una croce qui eccetera formano dei quadrati se noi andiamo a rimpicciolire possiamo avere questa griglia che abbiamo creato che può essere finissima perché andiamo a rimpicciolire troppo o di una certa dimensione cosa vogliamo fare ora vogliamo trasformare questa griglia in invece una specie di ragnatela se torniamo all'inizio vediamo che qua abbiamo la nostra croce abbiamo il passaggio su transform con una griglia e poi abbiamo un altro nodo che creerà la ragnatela bene quindi vado sul di nuovo i miei nodi e dopo il transform premo shift barra spazzatrice e cerco coordinate space lo vado a inserire premo 2 ma come vedete non mi dà lo stesso risultato perché ora stiamo andando a creare quasi una figura ecco rettangolare quindi clicchiamo qua e abbiamo polar rettangola in questa maniera la nostra immagine viene distribuita in un cerchio e abbiamo ottenuto come vedete una ragnatela per farla uguale all'altra sarà solo da regolare il transform con più grande o più piccolo come vedete guardate qua otteniamo una ragnatela chiamo così in realtà lo schermo del radar molto fissa o pian pianino più larga se insistiamo otteniamo cose molto particolari perché andiamo a eliminare i raggi restringendo di più il polare e come vedete fino a ottenerne pochi e poi solo 4 3 2 e infine 1 quindi vedete quante figure possiamo fare da una semplice crocetta che abbiamo tracciato scegliamo noi come dovrà essere il nostro radar io direi così che sia abbastanza simmetrico e così abbiamo creato la base del radar torniamo un attimo alla nostra prima programmazione abbiamo visto abbiamo analizzato questa parte qua ma perché il background non era collegato direttamente qua e semplicemente avevamo le maschere che entravano nel background che era tutto molto più semplice perché con lo stesso background e con altri brightness potremo ottenere toni più scuri se io vado qua e guardo questo brightness ha un tono se io vado qui e guardo questo brightness come vedete ne ha un altro e adesso andremo anche a agganciare altre maschere bene per oggi ci fermiamo qui e la prossima volta continueremo costruendo questo che non immaginerete mai cos'è eccoci arrivati alla nostra piccola programmazione e se questa la colleghiamo al media out avremo in uscita sulla timeline la nostra bella ragnatella ovviamente quadrata perché abbiamo fatto il discorso dei 1000 per 1000 ok perché la funzione di coordinata polare lavora in quadrato se noi cambiassimo le dimensioni questa portassimo 1920 per 1080 come vedete avremo sì una ragnatella ma non sarà tonda perché sarà ovale perché prende le proporzioni che abbiamo della risoluzione e quindi in timeline ci porteremo una forma così ci potrebbe servire non è il nostro caso perché vogliamo un radar e quindi circolare almeno di non forzare questa risoluzione e poi tagliarla che comunque è quello che si può fare anche con quello quadrato cioè di forzare la risoluzione qua vedete per poi andarla successivamente a tagliare con un nodo crop e ricroppare alla risoluzione desiderata ovviamente con un anche trasport ecco qua possiamo ricentrarla e come vedete allora in questo caso abbiamo mantenuto una forma tonda al disegno ma distribuito in un'immagine 16 noni bene per il momento io vi ringrazio e ci ritroviamo al prossimo tutorial dove continueremo l'analisi di questa animazione ciao io sono Anna e ti invito a iscriverti al canale youtube di franco aversa a Grazie a tutti.